Vedete bene tutti che per noi sarebbe stato molto più semplice per l'amministrazione uscente andare in continuità col supporto del Partito Democratico e sarebbe stata una campagna elettorale molto più semplice. Purtroppo, non certo per scelta nostra, ma per scelta di una parte del Partito Democratico, questo percorso non si è potuto proseguire. Hanno fatto una scelta diversa, contrariamente anche da quelle che erano le indicazioni del Partito Provinciale, che aveva dato una netta indicazione di andare in continuità con i sindaci che uscivano dal primo mandato, però a livello locale alcune persone del PD hanno deciso di fare un altro percorso. Purtroppo a Malincuore ne abbiamo preso atto, però non siamo stati disposti a farci da parte come ci era stato chiesto, ma ci sembrava giusto continuare la nostra azione amministrativa. Dopo cinque anni appena conclusi, veramente difficili, dei quali una prima metà praticamente è persa a causa del Covid, ora che abbiamo iniziato a mettere insieme tanti progetti, tanti finanziamenti, ci sembra anche giusto, anche nel rispetto delle tante persone che ci hanno votato cinque anni fa, continuare la nostra azione di governo e portare avanti tanti progetti avviati. I punti principali sono ovviamente alcuni confermati, nel senso che la valorizzazione del territorio rimane comunque il nostro obiettivo primario e questa si ottiene anche attraverso un grande rapporto con tutte le associazioni del territorio, con le quali abbiamo già collaborato tanto in questi anni, sia associazioni di tipo sociale, di tipo sportivo, ma anche le prologo con le quali collaboriamo per tantissimi eventi e tantissime iniziative e ovviamente un occhio di riguardo sempre alla questione sociale, perché comunque anche se il nostro è un territorio ricco di tessuto sociale, però le difficoltà sono tante, abbiamo già un percorso individuato per un futuro di una nuova casa di riposo, per una riconversione dell'attuale fabbrica Picoli, per la quale abbiamo ottenuto proprio in questi giorni un finanziamento di 700 mila euro per l'adeguamento sismico, quindi una progettualità per riconvertirla in nuovi servizi a disposizione della nostra comunità e il progetto già finanziato, anche quello nel PNRR attraverso la conferenza dei sindaci, 800 mila euro per realizzare casa posi, cioè una casa famiglia per gli anziani non autosufficienti dove lì possono essere seguiti e accuditi anche attraverso un innovativo sistema di telemedicina. Quindi le linee principali sono queste e ovviamente con un occhio sempre rivolto alle attività economiche. Noi abbiamo lavorato molto sul turismo e veramente con risultati importantissimi che ci fanno besperare anche per il futuro, però abbiamo lavorato anche molto sui prodotti agricoli e abbiamo lavorato molto in collaborazione con le aziende produttive del nostro comune. Abbiamo l'importante polo di Via Valiani che purtroppo ha avuto anche quel periodo con quegli incendi di quelle fabbriche dove sembravano le cose un po' incerte, invece le aziende hanno rilanciato e noi grazie a tre varianti urbanistiche che abbiamo approvato in tempi veramente velocissimi, gli abbiamo creato le condizioni non solo per rimanere ma anche per rilanciare e fare nuovi investimenti e abbiamo approvato anche su Bucine una nuova area produttiva di 14 lotti e questo anche nella speranza di incentivare qualche piccola azienda o qualche artigiano a trasferirsi su Bucine e creare nuove opportunità di lavoro. Per scongiurare le conseguenze negative di questa frattura che c'è stata un po' nel centro-sinistra noi ci presentiamo come lista cebica, quindi con degli orizzonti anche più larghi, ci siamo aperti molto alla società civile ci sono innesti di figure che non sono riferite precisamente al centro-sinistra ma sono figure anche di un'area più moderata e più ampia e però l'importante è avere apporto di conoscenze e di qualità anche specifiche in modo che per avere per i nostri cittadini un'offerta veramente attrattiva andare al di fuori dagli schemi della vecchia politica che purtroppo è riaffiorata in questi mesi ma noi la vogliamo superare, vogliamo uscire da quel modo di ragionare noi ci proponiamo per amministrare il nostro territorio noi siamo qui non per fare una politica di respiro nazionale o neanche provinciale noi ci interessa amministrare bene il nostro territorio farlo migliorare, farlo crescere e creare le condizioni per viverci nel miglior modo possibile grazie